Allora, siamo vicino lo Sheldonian Tietro. C'è la pronuncia? Cosa potete vedere tu? Quello è Black Clay? No, non è White Ours, ah sì, White Ours. Cosa potete vedere tu? Cosa potete vedere tu? Cosa potete vedere tu? Cosa potete vedere? Cosa potete vedere? Cosa potete vedere? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.